ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale andiamo prima a vedere le notizie principali di oggi traffico di influenze finisce ai domiciliari pippo genuso ex parlamentare regionale prossime elezioni amministrative saranno 128 i comuni alle urne riordino camera di commercio levata di scudi fratricidio di san gregorio è stato interrogato il responsabile non volevo ucciderlo vicenda ape calessini finalmente una soluzione provvisoria per loro queste le anticipazioni diamo prima linea alla regia per la pubblicità vi aspettiamo per parlare anche di altre notizie a dopo vuoi acquistare due paia di lenti di diverse idiotrie non comprarne due quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze e ottica quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità del marchio galileo hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce abbiamo le lenti fotocromatiche transition che diventano automaticamente più scura al sole e se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole ricorda che ottica quartarone esclusivista del marchio rocco barocco a siracusa non vuoi pagare subito nessun problema viene a trovarci per scoprire come pagare a piccola rata al mese a tasso zero ottica quartarone ti aspetta in viale luigi cadorna 31 33 a siracusa se hai un isè inferiore a 10.000 euro usufruisci anche tu del bonus vista 50 euro una tantum per ogni membro del nucleo familiare no bambini non si può avere tutto dalla vita sennò mica stavo con mamma non si può avere tutto dalla vita o perlomeno non sempre dr 4.0 full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna nova auto concessionaria evo edr via e lorina 130 siracusa qualità professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono fisio rem medical center una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia il sistema di risonanza magnetica open mark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro ben tornati al nostro telegiornale come abbiamo detto nelle anticipazioni l'apertura è dedicata agli arresti domiciliari per l'ex deputato regionale pippo genuso una pena che è diventata esecutiva deve scontare ai domiciliari otto mesi dopo aver patteggiato a roma per traffico di influenze sentiamo i dettagli sono scattati gli arresti nei confronti dell'ex deputato regionale pippo genuso i carabinieri della compagnia di modica hanno eseguito un ordine di esecuzione nei confronti di genuso che dovrà scontare la pena di otto mesi agli arresti domiciliari dopo aver patteggiato la pena per traffico di influenze la vicenda risale alla 2019 quando il gruppo del tribunale di roma costantino de robbio ha applicato a carico di genuso la pena di un anno e due mesi di reclusione l'originaria contestazione a carico di genuso era quella di corruzione sulla base le dichiarazioni accusatori di piero mare giuseppe calafiore che le hanno ribatite anche durante l'incidente proprietario quando hanno dichiarato di avere corrotto i componenti del consiglio di giustizia amministrativa per rifare le elezioni in nove seggi tra rosolini e pacchino e consentire così a genuso di riconquistare il seggio elettorale perduto a seguito dello spoglio delle elezioni regionali nell'autunno del 2012 pippo genuso ha sostenuto di non aver corrotto alcun giudice ma di avere comunque pagato e due avvocati a saldo delle loro spettanze come attività difensiva svolta davanti al cga contro la sentenza del tar di catania che aveva rigettato la sua richiesta di conteggiare le schede andiamo a parlare del riordino delle camere di commercio non piace il sistema che è stato varato dall'aggiunta regionale da siracusa sono i maggiori oppositori il ministro urso ha convocato intanto un tavolo tecnico per il 30 maggio il governo schifani non senza distinguo ha approvato il sistema delle camere di commercio su cui ha lavorato nell'ultima settimana l'assessore regionale all'attività produttive edita maio il sistema ripristina le camere di palermo ed enna di messina e del sud est quindi catania ragusa siracusa e conferma l'istituzione prevista della camera di commercio di agrigento caltanissette trapani questione finita niente affatto il ministro delle imprese del made in italy ha convocato a roma per il 30 maggio una riunione di confronto con le associazioni di impresa e le categorie produttive rappresentative dei territori interessati alla riorganizzazione delle camere di commercio in particolare nelle aree di catania siracusa e ragusa vogliamo ascoltare la voce di tutti gli stakeholders del territorio spiega il parlamentare di fratelli d'italia luca cannata e c'è una levata di scudi soprattutto da siracusa per il deputato del momento 5 stelle filippo scerra la decisione del governo regionale e la dimostrazione di come il centrodestra intenda gestire siracusa rendendola marginale nel quadro regionale per il senatore antonio nicita occorre una mobilitazione per evitare che questa marginalizzazione si concretizzi siamo sorpresi e l'urgenza del provvedimento che ci riporta al punto di partenza afferma l'associazione siracusa protagonista la nostra provincia subisce un'altra abbastonata di senso esprime anche confindustria siracusa le imprese siracusane scritto in una nota sono state abbandonate al loro destino tra mille difficoltà proprio nel momento in cui la grave crisi energetica colpita in maniera preponderante questo territorio avremo così la possibilità di manifestare al ministro urso che ben conosce il nostro territorio essendo stato il principale artefice risolutivo per la economia e al presidente schifani la nostra contrarietà all'accorpamento con catania anche il vertice di cna siracusa accoglie con favore la convocazione del ministro urso prevista per il prossimo martedì e che permetterà di esprimere con chiarezza il concetto siamo una delle organizzazioni che hanno espresso parere negativo scrivono da cna già nel colloquio con le rappresentanze regionali e riteniamo di dovrere esplicitare questa posizione nell'interesse delle imprese del territorio andiamo a parlare delle elezioni amministrative ormai agli sgoccioli domenica e lunedì si voterà per il nuovo sindaco di siracusa e anche per il consiglio comunale intanto parliamo dei 128 comuni siciliani che andranno alle urne sentiamo sono in tutto 128 i comuni siciliani che domenica e lunedì voteranno per eleggere i propri sindaci e rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali i seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 un milione 387 mila 169 sono gli elettori chiamati alle urne in 113 centri fino a 15 mila abitanti si voterà con il sistema maggioritario in 15 comuni nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno con quello proporzionale i consiglieri comunali da leggere sono 1646 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1579 in tutta la sicilia l'elettore può esprimere una o due preferenze nella stessa lista ma di genere diverso una femminile e una maschile il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa il cosiddetto effetto trascinamento prevista anche la possibilità di voto disgiunto che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata tra i 128 comuni chiamati alle urne ci sono quattro capologhi di provincia catania ragusa siracusa e trapani oltre ad altri 11 grossi centri come licata a c sant'antonio a cirreale belpasso biancavilla gravine di catania masca lucia piazza armerina comiso modica carlentini cinque i comuni attualmente commissariati catania aidone trabia modica e priolo al voto anche barra franca che nell'aprile del 2021 è stato sciolto per mafia andiamo a parlare della vicenda dei titolari degli ape calessini che hanno protestato per giorni per avere le autorizzazioni sembra che una soluzione temporanea sia stata trovata infatti il comune di siracusa ha deciso di istituire un servizio stagionale per il il trasporto appunto dei turisti sugli ape calessini per le vie di ortigia sentiamo di più con una integrazione al regolamento approvata al commissario straordinario giuseppe di gaudio con i poteri del consiglio comunale è stato introdotto un servizio di trasporto turistico ricreativo con conducente attraverso l'utilizzo delle motocarrozzette e dei velocipedi la delibera sarà immediatamente esecutiva una volta pubblicata all'albo pretorio il servizio avrà carattere stagionale dal primo aprile al 31 ottobre deve essere autorizzato e dovrà tenersi ad alcune condizioni il rispetto un'area di sosta e di percorsi stabiliti l'osservanza dei requisiti previsti per mezzi e conducenti la fissione delle tariffe in quattro lingue all'esterno delle motocarrozzette dei velocipedi per ottenere le autorizzazioni gli interessati dovranno rispondere a un bando pubblico il numero dei permessi viene stabilito ogni tre anni sulla base di un calcolo che tiene conto di alcuni parametri utilizzati da moltissime città turistiche italiane un terzo delle autorizzazioni andrà alle motocarrozzette gli api calessini e due terzi ai velocipedi l'amministrazione potrà verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti in mancanza dei quali e potranno essere revocati gli stessi permessi il regolamento nasce da una proposta del settore trasporti e diritto alla mobilità e il testo è il frutto di quanto concordato in sede di comitato per l'ordine alla sicurezza pubblica l'area di sosta sarà quella di via rodi nei pressi del parcheggio molo sant'antonio i percorsi sono stati scelti sulla base dei punti di interesse turistico ortigio parco archeologico della neapolis santuario della madonna delle lacrime museo archeologico paolo orsi catacombe di san giovanni piazza santa lucia latomini dei cappuccini questi potranno essere raggiunti seguendo precisi tragitti previsti nella delibera andiamo a parlare di cronaca torniamo a parlare dell'omicidio avvenuto a san gregorio un fratello che spara all'altro fratello ieri l'interrogatorio di garanzia davanti ai militari dell'arma vitale ha risposto che non voleva ucciderlo ma voleva solo difendersi dalle eliti ataviche per questioni patrimoniali sentiamo di più non volevo ucciderlo ho dovuto difendermi ha risposto così agli inquirenti dell'arma dai carabinieri durante l'interrogatorio dopo che rosario vitale di 50 anni a san gregorio di catania ha ucciso a colpi di pistola il fratello di 44 anni davide vitale secondo il primo racconto del cinquantenne artefice dell'omicidio la vittima suo fratello aveva pochi giorni addietro minacciato di morte lui e annunciato ripercussioni sulla sua famiglia all'ennesima lite quando il 44enne si è presentato ancora una volta presso l'abitazione del fratello minacciandolo con un coltello la situazione sarebbe poi degenerata arrivando così ai colpi di pistola quattro proiettili di cui due mortali alla testa e al torace di davide vitale il tutto sarebbe successo in strada e rosario vitale ha dichiarato agli inquirenti che dopo aver sparato avrebbe trascinato il corpo all'interno del cortile per cercare di rianimare il fratello ma dopo aver constatato il decesso ha chiamato i carabinieri per costituirsi aveva paura per la sua famiglia rosario vitale che da anni viveva liti con il fratello per motivi patrimoniali questo quanto è emerso dal primo interrogatorio di garanzia sono oltre mille i migranti che sono stati soccorsi dalla nave diciotto al largo della sicilia sentiamo di più un barcone con 671 migranti è stato soccorso la scorsa notte a 49 miglia sud est di siracusa in assar italiana è intervenuta la nave diciotto della guardia costiera con il supporto di nave d'attilo le operazioni di trasbordo sono state completate solo questa mattina la nave diciotto inoltre ha svolto un'attività di soccorso a circa 16 miglia dalle coste della sicilia nelle acque sar nazionali in favore di 423 migranti che si trovavano a bordo di un peschereccio le persone soccorse sono state in parte trasferite nei porti di assegnazione anche grazie all'impiego della moto vedetta cp 320 partita da siracusa e dalla nave di frontex in relazione alle notizie su una terza imbarcazione in difficoltà e il presunto respingimento di 27 persone la guardia costiera precisa che il centro di coordinamento e soccorso marittimo di roma nella notte scorsa ha cooperato confermamente a quanto previsto dalle vigenti convenzioni internazionali sul soccorso marittimo con l'omologo centro di coordinamento marittimo della guardia costiera libica nell'ambito di un evento soccorso all'interno dell'area di responsabilità di quel paese le unità mercantili coinvolte in questa attività di soccorso sebbene inizialmente contattate dal centro di soccorso italiano hanno successivamente ricevuto le istruzioni direttamente dall'autorità libica competente per il soccorso marittimo in quell'area che ne ha pertanto legittimamente assunto il coordinamento controlli straordinari anche nel comune di floridia da parte dei carabinieri che hanno denunciato un giovane per possesso di ordigni esplosivi e anche munizioni e sanzioni per aver violato il codice della strada per 17 mila euro sentiamo controlli straordinari nel comune di floridia durante il pattugliamento sono stati ritrovati ordigni esplosivi droga e sanzioni per 17 mila euro a floridia sono quattro i soggetti che sono stati denunciati alla procura della repubblica rettusea un giovane denunciato per detenzione abusiva di munizioni e materiale esplodente in quanto a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di due ordigni artigianali di circa 250 grammi ciascuno e due cartucce calibro 12 un altro uomo è stato denunciato invece per porta abusivo di coltello mentre due pregiudicati per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo infine altre sette persone sono state segnalate alla prefettura di siracusa per uso personale di droga trovati infatti in possesso di cocaina ash shem marioana durante i controlli sono state elevate 14 sanzioni per violazioni al codice della strada in particolare per guida senza casco uso del cellulare alla guida circolazione senza revisione guida con patente scaduta o mai conseguita per un totale di circa 17 mila euro di sanzioni inoltre sono stati sequestrati tre veicoli che circolavano senza copertura rca e decurtati ai conducenti oltre 80 punti è stata revocata la misura cautelare nei confronti del sindaco di sortino la corte di cassazione ha colto il ricorso proposto dai legali difensori la quinta sezione della corte di cassazione ha colto ricorso proposto dal sindaco di sortino vincenzo parlato disponendo nei suoi confronti la revoca della misura personale del divieto di dimora nel comune di residenza parlato coinvolto nella vicenda relativa al sorteggio dei revisori dei conti avevo tenuto dal GIP del tribunale di siracusa la revoca della misura cautelare poi però applicata nuovamente dal tribunale del riesame a cui si era rivolto il pubblico ministero Tommaso Pagano esprimo soddisfazione spiega l'avvocato Domenico Mignosa che assiste il sindaco di sortino per un verdetto che riconsegna la libertà al mio assistito che si è detto sempre sereno e in grado di dimostrare la propria innocenza rispetto alla contestazione mossa dalla procura la vicenda risale al 7 ottobre del 2020 e riguarda il sorteggio per la nomina dei revisori dei conti del comune di sortino per la guardia di finanza il primo cittadino avrebbe falsificato l'esito della procedura l'analisi del video della seduta consigliare ha permesso agli investigatori di scoprire che il sindaco chiamato ad estrarre il biglietto dall'urna avesse già un foglietto bianco tra le mani una volta inserito il braccio nel bussolotto ne avrebbe estratto uno identico per colore, forme e dimensioni a quello tenuto in mano Andiamo a parlare di sport e ultimi due allenamenti per il Siracusa Calcio poi domenica la grande sfida con l'Ercolanese allo stadio Nicola De Simone di Siracusa la società invita i tifosi a colorare d'azzurro tutto lo stadio coloriamo d'azzurro gli spalti, indossa la tua maglia del Siracusa, porta la tua sciarpa sventoliamo con orgoglio le nostre bandiere è questo lo slogan di incitamento della società in vista della partita di andata della semifinale dei playoff nazionali in programma domenica allo stadio De Simone a dirigere il match tra Siracusa e Del Colanese sarà Emanuele Boccuzzo della sezione di Reggio Calabria coadiuvato dagli assistenti Stefano Kossovic della sezione di Varese e Bruno Dattilo della sezione di Roma 1 ieri la squadra agli ordini di Gaspare Cacciola ha svolto un allenamento congiunto a porte chiuse con il Priolo Gargallo gli azzurri stanno preparando con cura dei dettagli la grande sfida con la forte avversaria Campana preparazione completata nel pomeriggio, poi l'ultima rifinitura domattina tutti a disposizione del tecnico e calciatori compreso Camarà che ha scontato i due turni di squalifica sono 14 in totale le sfide tra Siracusa e Del Colanese con un bilancio di 6 vittorie azzurre, 5 pareggi e 3 sconfitte il primo precedente in assoluto in terra retusea risale alla stagione di Serie C2 1981-82 in quell'occasione le due compagini pareggiarono per 0-0 la sfida di campionato più recente invece risale alla stagione di Serie C2 87-88 anche in quel caso finì in parità ma stavolta 1-1 con lo sport si chiude il nostro telegiornale grazie per l'ascolto dedicato vi diamo appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie